Io non capisco perché veramente io dovrei fare un post partita di Sampdoria Sassuolo quando c'è su Tirol Regina di Serie B dei playoff Fatemi dire che è una gara inutile, perché è inutile, di Sampdoria Sassuolo venga previsionata di questa partita Cioè io non ci credo, io fattico a credici, non che questa partita sia stata incredibile, anzi poche occasioni Tanto equilibrio, tanto equilibrio, chiaro che su Tirol è una difesa pazzesca penso l'anno scorso In Serie C ha subito mi sembra 9 gol, record mi pare, una squadra in cui è molto complicato fare gol E per una partita da 0-0, chiaro che su Tirol secondo me non è una squadra particolarmente forte Su me ai playoff ci è arrivata per miracoli, io non ho visto la Serie B però Diciamo che rispetto ad altre squadre secondo me ha quel qualcosino in meno Ha quel qualcosino in meno, chiaro che tra l'altro mi ha colpito molto lo stadio Mi ha colpito molto lo stadio, è uno stadio particolare, uno stadio piccolo Però lo stadio anche si vedono fuori le montagne, è veramente una figata È veramente una figata lo stadio del Suttirol secondo me Detto questo poi ripeto, pochissime occasioni, forse le più grandi sono state per la regina Una con Maya di Tiro che ha preso un giro strano e l'altra con Di Chiara allo scadere della prima frazione Ripeto, una partita anche tanto fallosa, partita in genere molto noiosa Partita molto molto noiosa, non che mi aspettassi chissà cosa però è pur sempre una gara playoff Chiaro che alla regina se la partita finisse supplementari e il risultato rimanesse invariato La regina appunto questo risultato non basterebbe Il Suttirol però eventualmente giocherebbe lunedì se passasse Quindi boh, non ci stanno provando troppo le due squadre, forse un po' più la regina nel finale del primo tempo Però non mi sembra una gran partita, non mi sembra una gran partita Le due squadre non vogliono sbagliare Chiaro che Suttirol è una delle squadre che ha totalizzato pochissimo possesso palla La squadra con meno possesso palla mi sembra in Serie B Forse una media pari tipo al 37% al possesso palla partita Chiaro che in realtà secondo me nella prima frazione, cioè nei primi 20 minuti Forse ci ha appena provato di più il Suttirol Poi però si vedono i limiti delle due squadre, si vedono Non ha dovuto fare i grandi interventi continui così come non ha dovuto fare i grandi parate Poluzzi Nel Suttirol Credo che la regina ha una crisi societaria incredibile Credo che la regina non andrà in Serie A Proprio per questi motivi Proprio per questi motivi Punti ridati, punti tolti Mamma mia, sto vicino a queste squadre qui ormai Viviamo sempre in un paesaccio Ovvero l'Italia Almeno questa è ingiustizia sportiva Perché penalizzare A parte che negli altri campionati non c'è mai una penalizzazione Sarà un caso? Sarà un caso che in Premier League mai viene squalificata Cioè no squalificata Mai viene penalizzata una squadra? Perché? Perché lì c'è la giustizia Qui non c'è giustizia sportiva E quindi anche dal punto di vista mentale Senz'altro la regina Non so con quale motivazione è scesa in campo Visto i tanti problemi societari Però allo stesso tempo vuole andare in Serie A Detto questo ci attende un secondo tempo Può succedere ancora la qualunque Siamo al 94esimo sui Tiro 1 Regina 0 Allora Dedicato a tutti quelli che dicono Eh ma in difesa è inutile giocare Eh L'ho visto Perché sì magari Giocare in difesa Non è più efficace come un tempo Su questo Non 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 avete torto Nel senso Nel senso Secondo me Giocare in difesa Oggi è un rischio Perché è un attimo che gli altri disegnino Però è anche vero Che la regina Meditava sicuramente di più Secondo tempo ragazzi Su Tirol Non ha fatto nulla Però ho visto Eh ma Il catenaccio ragazzi Il catenaccio ha portato Al gol di Caseaghi Al 90esimo Molto sfortunato Il difensore della regina Perché il tiro è stato diviato E non era manco un gran tiro Però su Tirol Ritendo scherzando In semifinale con i Bari Manca un minuto e mezzo Circa alla fine Così è il calcio Piaccia o non piaccia Piaccia o non piaccia Giocare in difesa Non è sempre inutile L'abbiamo visto oggi Perché la regina Poteva fare Almeno un gol Nel secondo tempo Almeno uno Se non fosse stato Per la difesa Sul Tirol Le gran parate Di Bologna Perché Tre minuti prima Intanto qui Occhio sul Tirol Che potrebbe raddoppiare Occhio al cross Il colpo di testa Niente Niente Sul Tirol Non riesce a raddoppiare Ultima speranza Probabilmente Per la regina Bisoli imbufalito Bisoli Imbufalito Non ci sta più Con la testa Però Appunto Bologna Fa un miracolo Prima su Maier E quel Tirolì Era straordinario Quel Tirolì Forse Maier E' stato Uno dei migliori In campo della regina Fa Un ottimo intervento Sul doppio tiro Di Canotto Decisivo anche Masiello Che purtroppo Si è infortunato E Chiaro che Sicuramente Intanto Quei gran parata Ai Poluzzi Altra gran parata Ai Poluzzi Al 96esimo Si E' stato un rischio Giocare in difesa Ma il risultato Premia Il Suttirol A meno che succeda qualcosa di clamoroso Non sa neppure i contini Niente 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 da fare Il Suttirol è vicinissima alla vittoria Non con merito Però ripeto Nel calcio può accadere qualsiasi cosa Esultano i giocatori del Suttirol E la regina Non riesce Ad andare in semifinale E in semifinale Ci va Il Suttirol Immeritatamente Ma l'importante Ripeto Nel calcio E segnare E segnare E chiacchiere E chiacchiere Ma nel calcio Bisogna segnare Nel calcio Bisogna segnare Pum Cioè Punto stop Cioè Perché veramente Ragazzi Qui non ci sono le statistiche Però Cioè La regina Veramente Ha dominato Il secondo tempo Ha praticamente dominato Potrà concretizzare un po' di più Però Diciamo anche Il Suttirol È stato molto bravo Il Suttirol Affronterà il Bari Giocare della regina Giustamente distrutti